5 giorni, oltre 40 appuntamenti, un itinerario che attraversa ed intreccia gli universi della letteratura e della musica, del cinema e del teatro. E' il Cortona Mix Festival, la manifestazione giunta alla sua sesta edizione che si svolgerà da mercoledì 19 a domenica 23 luglio, riproponendo tutti i suoi ingredienti più caratteristici, dalla contaminazione tra i linguaggi all'ambientazione nei luoghi più suggestivi di Cortona. Tante opportunità per le persone che vengono a Cortona e che si possono gustare le nostre piazze, i nostri vicoli e allo stesso tempo decidere qual è lo spettacolo e l'evento culturale più giusto per loro. Le date più importanti sono l'unico appuntamento, l'unica data italiana dei Boontown Rats, il gruppo di Bob Geldof, ma anche alcune produzioni originali del festival, come il concerto di Max Wembeg, il batterista della East Street Band di Bruce Priesting, che allestirà un concerto proprio a Cortona insieme alla Big Band dell'Università di Siena Jets. E poi il concerto dell'orchestra della Toscana con Nicola Piovani, i Baustelli, insomma alcuni tra i nomi più importanti del panorama nazionale ma anche internazionale. La regione è presente anche in questo caso nel nostro territorio per valorizzare, promuovere e ringraziare anche tutti quelli che si sono dati da fare, le tante associazioni e istituzioni presenti per un festival straordinario. Anche questa edizione sarà molto molto interessante, soprattutto ci darà la possibilità di contaminarsi tra più generi, tra più generi letteratura, musica, teatro, danza, poesia, tantissime cose da vivere in quegione e coltora di un livello assolutamente alto, quindi noi siamo ben contenti di promuovere iniziative di questo livello. Grazie. Grazie a tutti.